L'Abruzzo protagonista della transizione energetica grazie alla costruzione di una filiera dell'idrogeno green, della componentistica alla logistica per arrivare alla produzione del vettore da fonti rinnovabili come eolico e fotovoltaico e alla successiva distribuzione e utilizzo come alternativa alle fonti fossili, non più solo per ragioni ambientali ma anche e soprattutto di sostenibilità economica e finanziaria. Se ne è parlato questa mattina a Pescara, a Laurum, nel corso di un convegno organizzato dall'Arap Abruzzo. A livello territoriale, Arap, che è il braccio operativo della regione Abruzzo, non può che aver fatto un ragionamento con il presidente Marsilio, con l'assessore Campitelli, per stringere le fila e avere un approccio sistemico su questa tematica per rafforzare il tessuto connettivo delle imprese e uno di questi argomenti non può che essere quello delle rinnovabili e questo si è materializzato anche attraverso la DGR 44 del 2022 su un bando per il recupero delle aree industriali dismesse e poi è chiaro che noi ci candidiamo con la nostra organizzazione, la regione Abruzzo si candida a diventare con DI, che noi oggi presentiamo tutti gli assetti strategici di attività di Arap e dell'assessorato all'ambiente per i prossimi anni, ci candidiamo a diventare l'Hub italiano dell'idrogeno. Abbiamo capito soprattutto in questo periodo che l'energia è sviluppo, è futuro, è insediamento industriale, è competitività delle aree industriali. Noi come Arap abbiamo la responsabilità di gestire le aree industriali e quindi vogliamo guardare avanti e vogliamo entrare nel mondo dell'energia per offrire energia sostenibile da un punto di vista ambientale ed economico alle imprese insediate.